Ciao amici e amiche, Forspoken, mamma mia, ci metto un secondo da caricare? E' un piacere uscire ed entrare dal menu principale per il tempo di caricamento, raga. Allora, andiamo avanti con la storia. E' un po' malissimo. Non penso che sia più forte. non porta nulla di buono allora che cos'è tempesta e rovina corruzione finisci la tua salute si avverrà gravamente gli attacchi per non trovare una via di fuga per perdere il tuo posto non potrai sconare i punti interessanti ok no 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 Ho visto che c'era C'è un po' che c'è Ora! Questo lo farà! C'è una cava a vicino. Dobbiamo escurire là fino a la storme passi. Mi sembra bello! wow ok raga l'altro è morto dove è sto pericolo? ah eccoli qua allora il combat system è spettacolare l'altro ecco adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a fare amici oh 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 ciò che adesso è fatto missione compiuta castello del fray e Castello ce l'ha scritto l'ho detto ma non so bene capitolo 4 vai ciò che deve essere fatto si assolutamente si senti meglio? non davvero ho avuto un sogno e è stato 10 volte meglio di questo è abbastanza bello sì in un modo di tutto qui che vuole a te uccidere no, io solo dicono anche tra le maldi c'è una sorta di delicata la destrazione e la corruzione sono forme di creazione in loro wow tu sembra come un serial killer cosa? la destrazione e la corruzione sono belle forme di creazione in loro non sembra così 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 stupendo non probabilmente non tutti ha la sensibilità e la subtilità necessità di apprezzare la bellezza inerente in Chaos certo, Hannibal chi? oh sì non sembra non sembra non sembra non sembra non sembra prima di scendere prima di scendere potremmo vedere questo plan di giocato che ci ha dato non sembra Finalmente, siamo arrivati al castello. Scusate se non mi piacevole. Grazie a tutti. In the frame you go. Ok ragazzi abbiamo fatto la foto, ne mancherò solo due. Ok, ok. Ok, nessuno ha detto così. Si, non, proviamo prima la porta. Ok. 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 Ah! Ah! Come on! Come on! Now might be a good time to heal yourself. I am very aware of that. Thanks! You ready? There it is! Ah, yeah! Ah! 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 What do you think I am? Superhuman? Ah! 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 Gotcha! Ah! The advantage is ours! Don't panic! Stop making me panic! Ooh! Sì! Ero questi due che lanciavano la roba! oh no dai sono caduto giù ma non ci credo e vai su testolina wow i think i might be losing my mind a little bit things do get rather surreal this deep inside the break you can say that again ah Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Goto. Un minerare estremamente raro, wow, raga. It's not much, yeah. 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 Hey, that cliff. Yeah. 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 Yeah, right. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, well, I'm okay. Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, non c'è niente da fare, andiamo avanti Anche se dovrei prendere prima queste cose qua La rinascita di una città che è stato costruito circa un secolo fa Recuperiamo In realtà ho fatto le cure per niente Perché se io vado qui dovrei, in teoria mi dare tutte le fialette Ecco, allora in teoria Devo ricordarmelo sempre di non fare così C'è di andare a fare le cure Però non lo so se me li recupera Uh, ma Era così Oh, 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 oh All right Now's your chance On it Grazie a tutti. Beh... Tu credi che è stato fatto. E' un uomo che non è andato. Questo sembra un grande. Credi che potresti pensare che potresti vivere un po' di questo? Cosa credi che sono? Superhumani? I micellini sono terribili però non hanno tanta vita almeno quello So the taunt has caused the break right it certainly seems that way after all it appears to be Another partha a common find apparently Nice rolda whatever that is This one's going to be a chore Not the pep talk I needed Right in the sweet spot Mother Nature would like a word Where are you going? The floor plan showed a passage leading in from the side of the castle If we can find it, we might be able to sneak in on the detective Does that make things a little easier? More than a little Tired after that little performance? Hey, I'm always tired All's well then, wonderful Yeah See, we're going to be able to sneak in on the side of the castle Cosa ti ha detto? Oh, e di piccola fede. Molto per portare il giro in loro difensi. Allora, andiamo a trovare dove questa piazza è scoperto. Puoi poter portare questo. Mi sento una presenza hostile, sei a tua guarda. Sì, sì, resta freddo, ho capito. Seconde win. ma dove mi dice? ah una difesa ah una difesa ah una difesa ah una difesa ah potremmo la porta fronte non è la migliore opzione cosa? non pensi che potrei prenderli? sto dicendo che ci possa essere un modo in che può involvere meno lo scopo e le fai ero in un po' sbaglio mi sono freddo di mio sangue ma potremmo non c'è la possibilità potremmo non c'è la possibilità potremmo di vedere ciò che sta all'interno ehm proviamocire per vedere se la fronte gate è oltremmo prima ah vieni i migliori cose che ci sono per quelli che aspettano sono un cliente sono un cliente io diria che sei diventato è un cliente che è perché si 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 la trappola magica barriera magica ragazzi just wait until you're ready i thought i overrated it i can't keep you safe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bella Scossa Ah un'altra unghia ragazzi Scossa Vediamo un attimo Alla unghia ragazzi Ok ho messo due Unghia diverse Così riusciamo a avere più Wow Oh Whoa Check out these paintings I most certainly will As should you Know your enemy And all that So that's them Huh Not anymore I wonder why They turned on Their own people Yeah What the hell Is that what I'm talking about And all that Grazie a tutti. 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 So... Fase successiva ragazzi infatti anche il gioco ci dice attenzione hai tutto io non ho niente invece Yeah... fray... o... mi ha tirato un sasso in testa che... no... 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 Un po'... un po'... impossibile raga... This may not be good her anger is fueling her power well you know she's not the only one who's pissed off time to finish this Sottotitoli Ah! 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 Steady, Frey! Take her down! You've come too far to fall now! Ah! Your power! A major strangle my own! Ah! Ah! Come, demon! Get me all that you have! What? This is nothing! Heads up! All your talk merely amounted to this! What's the matter? No longer so hungry for revenge! Ah! 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 Noooo! Raga! Metà! Mi ha segato! Troppa roba! Cadè giù! Oh! Tell me, demon! What do you make of my blade? Its edge has been honed on the flesh of a thousand enemies! Oh, please! Oh, please! I'm ending your bullshit now! Do your buck! My sword screams out for the taste of your blood! Damn! Talk about tough! Ah! 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 It's been too long since my left were the opponent! You know, I don't think she's getting any calmer! Worth a shot! Yeah! Steady, Frey! Take her down! Shit! Well? Have you had your fill? You will not outrun this! Do try not to get incinerated! It's not too far to fall now! This is for all the people you kill! All nameless sacrifices! For a greater god! Tell me, demon! What do you make of my blade? Its edge has been honed on the flesh! of a thousand enemies! Oh, please! I'm ending your bullshit now! Do your buck! My sword screams out for the taste of your blood! Damn! Talk about tough! This'll do it! Whoa! Oh, yeah! Coward! Weak lady! Are you too craving to face me? Entertain me! And die! Come, demon! Get me all that you have! Gladly. Do you think you can defeat me? Do your work! Well? Have you had your fill? Your power! You need to survive on my own. If you won't come to me, I'll come to you. Fire and steal! A fatal mistake! All shall be raised before me! You've come too far to fall now. What are you waiting for? I am right here! This is going nowhere. Do something, Frey. Got you on your toes now. Ah, it's been too long since I left the opponent. You know, I don't think she's getting any karma. This is nowhere near over. Relentless, isn't she? We did it! Maybe! Great! Do you remember to subscribe to the channel? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Abbiamo sconfitto proprio gli ultimi secondi del video. Forse. Speriamo che non c'è un video lunghi. Comunque, ciao ciao a tutti da Marketplace Games. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio di Force Poker. Bellissimo, raga. Now it's for you, Olivia. All will be well. All will be well. All will be well. What is happening? I'm not sure. Whoa. I think you just leveled up. All will be well. 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 All will be well.